Buongiorno e ben trovati. Primo appuntamento in diretta con Ora Tg che apriamo con la cronaca. Torniamo sulla tragedia di Palazzola Creide nel Siracusano, avvenuta ieri. Oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Vincenzo di soli dieci anni che è precipitato e morto all'interno di un pozzo profondo 15 metri mentre partecipava ad un campo estivo insieme al fratello di Sabile. Adesso si cerca di capire se ci sono delle responsabilità su quanto accaduto. È stata aperta un'indagine e l'area è sottoposta a sequestro. Sono ore di dolore e disperazione quelle vissute a Palazzola Creide da ieri pomeriggio quando il piccolo Vincenzo Lantieri di soli dieci anni è morto dopo essere precipitato in un pozzo profondo 15 metri e pieno d'acqua per metà in un agro di Contrada Falabia mentre partecipava insieme al fratello più grande di Sabile ad un campo estivo organizzato dall'ANFAS a cui erano iscritti una ventina di minori. Oggi l'autopsia sul corpo del piccolo. Sulla tragedia la procura di Siracusa ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti. Nonostante il dolore adesso è tempo di capire se e di chi sono le responsabilità della terribile tragedia. E per ricostruire i fatti la magistratura sentirà gli educatori della fondazione che da anni si occupa dei disabili e che tenta di lavorare all'integrazione dei portatori di handicap. Verrà convocato in caserma anche il presidente della fondazione, imprenditore impegnato nel sociale e proprietario della campagna e della fattoria in cui era stata organizzata la gita. Il pozzo era ben chiuso e assolutamente segnalato, dicono gli inquirenti, che attribuiscono il crollo della botola alla pressione esercitata dal bambino. Quando si è allontanato dal gruppo il piccolo Vincenzo è salito sulla lamiera che copriva il pozzo. Il pericolo non gli ha sfiorato la mente. Ha cominciato a saltare nonostante i richiami degli educatori della Onlus che l'hanno poi visto precipitare inghiottito dal vuoto. Il peso e i movimenti del bambino, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero fatto saltare il cavistello che assicurava la botola. E così il piccolo Vincenzo è caduto giù, probabilmente ha perso i sensi ed è annegato. I genitori del piccolo, due dipendenti del comune molto conosciuti in paese, hanno aspettato per ore accanto al pozzo, sperando che il figlio fosse ancora vivo. Non è stato così. I sommozzatori dei vigili del fuoco l'hanno visto galleggiare e l'hanno portato in superficie senza vita. Sotto shock e con qualche ferita, l'educatrice Carmela Caligiore, di 54 anni, che ha cercato di soccorrere inutilmente il bimbo. Nemmeno il tempo di avvertirlo del pericolo, che lo ha visto cadere giù, non si dà pace. Era entrata nel pozzo attraverso i primi gradini in mattoni, ma non è riuscita a raggiungere il piccolo. Difficilmente però avrebbe potuto salvarlo, dicono i soccorritori, dopo le prime ricostruzioni dei fatti. L'area adesso è sotto sequestro e nei prossimi giorni proseguiranno i sopralluoghi dei carabinieri. Il sindaco della comunità, Salvo Gallo, ha dichiarato il lutto cittadino e la parrocchia ha annullato le celebrazioni della festa per il patrono. Stasera ci sarà una veglia di preghiera per il piccolo Vincenzo, che aveva partecipato con gioia nei giorni scorsi alle escursioni e attività di integrazione. Ieri aspettava con ansia quella gita in cui purtroppo ha trovato la morte, lasciando nel profondo dolore i genitori e i due fratellini. Adesso ancora per la cronaca, ci spostiamo ad Aciriale, dove nella serata di ieri si è sviluppato un incendio all'interno del reparto di ossetricia dell'ospedale Santa Marta Santa Venera. La causa del rogo sarebbe il surriscaldamento di una termoculla, ma nessun ferito né intossicati. Ci sarebbe una termoculla alla base dell'incendio divampato all'ospedale Santa Marta e Santa Venera. Nella notte scorsa, infatti, poco dopo le ore 23, un incendio di modeste dimensioni si è sviluppato al terzo piano dell'edificio sanitario ed ha interessato il reparto di ostetricia del nosocomia Cese. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio infatti si sarebbe originato dal surriscaldamento di una termoculla presente nel reparto. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti né intossicati tra il personale sanitario in servizio e i degenti del posto. Sei i pazienti dimessi dal reparto, mentre in cinque sono stati spostati in seguito all'evento di stanotte. La ripresa dell'attività del reparto non è ancora stata comunicata. Le cause precise dell'incendio sono ancora in fase di accertamento e le autorità competenti stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche sanitari del servizio 118 e le forze dell'ordine per garantire assistenza e sicurezza. Un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi, ma che grazie alla prontezza di intervento della vicina stazione dei vigili del fuoco e la collaborazione del personale sanitario si è concluso senza eccessivi patemi d'animo per gli avventori del posto. L'ancora cronaca tenta di uccidere la madre perché gli aveva negato i soldi per la droga. È successo a Catania dove un 21enne è stato arrestato per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e distorsioni ai danni della madre. La polizia è intervenuta nel quartiere di Librino dopo la segnalazione di una vicina che aveva soccorso la donna aggredita dal figlio. Durante l'ultimo episodio di violenza il giovane ha colpito la madre con calci e pugni, ha tentato di strangolarla con la tracolla della borsa e poi spinta giù per le scale. Infastidito dalla presenza della polizia ha addirittura aggredito anche gli agenti. La madre, disperata e con vistose ecchimosi, è stata portata al pronto soccorso. Il 21enne invece è stato rinchiuso in carcere in attesa delle prossime fasi del procedimento penale. Adesso voltiamo decisamente pagina, andiamo a Palermo per due interessanti congressi e incontri. La Sicilia con la sua economia del mare che vale, pensate, quasi 10 miliardi di euro con grandi prospettive e opportunità di crescita. Se ne è parlato oggi appunto a Palermo in presenza anche del ministro per le politiche del mare, Nellum Sumeci. Bisogna puntare di più sull'economia del mare per sviluppare il sud Italia. Il prodotto interno lordo della Sicilia, come certifica nei dati Svimez e Istat, in percentuale cresce di più rispetto alle altre regioni d'Italia, anche se il suo valore al momento resta tra i più bassi del paese. Una ricetta vincente per attivare il motore dello sviluppo dell'isola è la Blue Economy, un tesoro che oggi vale quasi 10 miliardi di valore aggiunto, ma che potrebbe crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni. E' quanto puntualizzato stamattina nel corso di un incontro che si è tenuto al Marina Yachting Center del molo trapeziodale di Palermo. E' mancata finora la programmazione nella politica del mare in generale. Anzi, il mare è stato ai margini delle agende politiche dei governi che si sono succeduti in questi 80 anni. Oggi abbiamo compreso che la risorsa mare può diventare un'importante carta da giocare anche in termini economici e in questo contesto la Sicilia è la più favorita. La Sicilia gestisce un sistema marittimo robusto con tre autorità portuali che movimentano oltre 73 milioni di tonnellate di merci e 27 milioni di passeggeri. È stato sottolineato durante l'evento organizzato dal quotidiano La Sicilia. Le prospettive sono davvero rosee. Si tratta di mettere a sistema le funzioni e gli obiettivi che ogni soggetto pubblico e privato vuole offrire in questo quadro generale che può fare del mare la carta vincente dell'economia siciliana. Trasporti marittimi e logistica sono cruciali per l'efficienza delle imprese e il supporto al turismo. E ancora a Palermo ci spostiamo a Palazzo dei Normanni dove si è tenuto un convegno per promuovere la donazione e il trapianto degli organi. Cresce la sensibilizzazione alle donazioni di organi. Dietro a questo risultato c'è l'impegno del Centro Nazionale Trapianti che insieme alle associazioni di volontariato stanno contribuendo a diffondere la cultura della donazione. In questo momento in Italia sono 8.000 i pazienti che aspettano un organo principalmente rene ma anche fegato, cuore e polmoni. Il Centro Nazionale Trapianti sta lavorando proprio per cercare di consolidare la rete di trapianti che è una rete fatta dell'attività trapiantologica ma che parte della donazione perché ricordiamoci che senza la donazione non c'è il trapianto. In questo senso abbiamo predisposto tutta una serie di attività a supporto delle regioni che stanno facendo un grandissimo sforzo per crescere. Mi riferisco soprattutto a tutte le regioni del Sud. È importante ringraziare le famiglie dei donatori. Esempio di generosità stamattina nel corso di un incontro che si è svolto all'Ars sono stati presentati i dati inerenti all'andamento delle donazioni nella regione. Si parte dalle donazioni perché le donazioni sono quella condizione che mette a disposizione gli organi e quindi la possibilità di effettuare i trapianti. Noi stiamo lavorando molto. Devo dire che la Sicilia sta dando dei risultati quasi inaspettati. Abbiamo avuto la felice registrazione nel paese di Geraci Siculo di un numero altissimo, tanto da essere diventato il primo paese in Italia. In Sicilia cresce il numero di trapianti. L'anno scorso, alla fine di giugno, quelli eseguiti erano stati 70. Quest'anno invece al momento si attestano ad oltre 170. Abbiamo il 30% di più in fatto di procura, mentre con un abbassamento notevole è dimezzato il tasso di opposizione alla donazione in questa regione e come trapianti siamo dietro le regioni del nord che tradizionalmente sono più virtuose. E da un esempio di vita e virtù ad un altro, i vigili del fuoco caduti in servizio da oggi potranno essere ricordati anche grazie alla lapide commemorativa che è stata installata nella piazza di Catania all'oro dedicata lungo la via delle Ondine. Oggi la solenne cerimonia. Una piazza dedicata ai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che hanno perso la vita nell'esplodamento del loro servizio. 13 nomi scanditi nel momento in cui è stata svelata la targa all'oro intitolata e che campeggia nella piazza caduti dei vigili del fuoco lungo la via delle Ondine e nel capologo Etneo. Sono stati i figli di Dario Abbiamonte, perito nell'esplosione di via Garibaldi del 2018, a svelare la lapide prima della benedizione. Sì, noi dobbiamo assolutamente ricordare tutti i caduti dei vigili del fuoco di Catania e d'Italia e lo facciamo oggi in questa piazza che è stata intitolata e per questo ringrazio la Regione e il Comune perché ci hanno aiutato tantissimo. Dobbiamo mantenere, questo è lo spirito nostro che ci ha spinto a organizzare questa giornata e che dobbiamo mantenere il ricordo di questi nostri ragazzi che sono morti in servizio. Un grande esempio anche perché siete sempre impegnati in prima linea. Sì, ma proprio per questo noi dobbiamo sempre, anzi dobbiamo anche elevare gli standard di sicurezza, proprio per evitare che queste situazioni succedano, accadano. Tra le autorità presenti, oltre al Presidente dell'ARS, Gaetano Calvagno, anche il Prefetto di Catania. Oggi ho letto per caso qual è il motto dei vigili del fuoco, che doniamo le fiamme e doniamo i cuori. Credo che questa cerimonia serva chiaramente per ricordare e commemorare coloro che sono morti in un addempimento di un lavoro che è fondamentale, essenziale per tutta la collettività. Ed è un riconoscimento anche che tutti dobbiamo ai vigili del fuoco perché sono sempre al nostro fianco impegnati, ci aiutano, ci salvano. Adesso che inizia una stagione estiva particolarmente pesante per il clima, per la siccità, è chiaro che il loro ruolo sarà ancora più fondamentale. Restiamo a Catania per un'altra solenne celebrazione, in questo caso il 250esimo anniversario dalla fondazione del corpo della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza ha festeggiato il 250esimo anniversario della fondazione del corpo anche a Catania. Le fiamme già lettene si sono distinte per i significativi risultati conseguiti nel 2023 e nei primi cinque mesi del corrente anno. 799 interventi ispettivi sono stati eseguiti e 30 indagini volti al contrasto degli illeciti economico-finanziari e contro le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Sono stati individuati 89 evasori totali e 504 lavoratori in nero o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 154. Inoltre sono stati sequestrati beni per evasioni e frodi fiscali, per un valore di circa 12 milioni di euro. L'attività del corpo nel settore della tutela della spesa pubblica ha visto l'esecuzione di 155 interventi orientati a verificare l'aspettanza a cittadini e imprese di crediti d'imposta, di contributi e finanziamenti. Nell'ambito della sinergia con l'autorità giudiziaria sono state eseguite indagini che hanno portato alla segnalazione alla Corte dei Conti di 32 responsabili con accertamento di danni erariali pari a 5 milioni di euro. In applicazione della normativa antimafia sono stati controllati i patrimoni di 1.135 soggetti. Ciò ha portato all'applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di circa 223 milioni di euro. Direi innanzitutto che il maggiore successo è quello di presentare oggi una guardia di finanza assolutamente moderna. Moderna, al passo con i tempi e adeguata per rispondere a quelle che sono le esigenze e i bisogni della collettività. A Catania, sul nostro territorio eteneo, i risultati di servizio sono sicuramente di grande rilievo e testimone l'impegno silenzioso quotidiano di tutte le fiamme gialle sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria per tutte le attività di delega e per tutti gli aspetti di carattere amministrativo con risvolti sicuramente molto molto significativi. Ed ancora nel capoluogo etneo, il premio Cronisti 2024 consegnato ai professionisti che si sono distinti per impegno e passione nella loro carriera giornalistica ha consegnato anche premi alla memoria a tre colleghi prematuramente scomparsi. Il premio Cronisti 2024 a Catania nell'aula magna della Scuola Superiore dell'Università ha i giornalisti e le giornaliste che con il loro impegno e la loro dedizione ma soprattutto la loro passione si sono distinti nel settore un comparto che sta attraversando un delicato momento e che grazie a istituzioni come Assostampa Sicilia resiste e si difende tutelando questa l'operato di tanti giovani che si avvicinano a questa professione ma anche di chi sul campo c'è da tempo. L'associazione riunisce i professionisti dell'informazione che oggi più che in altri periodi del nostro paese sono sotto attacco rispetto a delle iniziative legislative e non legislative che mettono in discussione l'attività giornalistica in Italia. Abbiamo assistito nel corso degli ultimi dieci anni possiamo dire a una serie di legislazioni che hanno limitato l'attività dei cronisti l'attività di informazione, sono state pubblicate delle leggi che noi chiamiamo leggi bavaio. A ritirare i riconoscimenti Franco Lanino per la mostra Macelleria Palermo Mario Pintagro, Roberto Marrone ancora le targhe intitolate ai maestri della cronaca siciliana Fabio Geraci targa Aurelio Bruno per la cronaca nera A Laura Di Stefano targa Gianni Lomonaco per la giudiziaria Ernesto Oliva targa Vittorio Corona per la tv Nino Amadore targa per l'economia e Mike Palazzotto la targa Letizia Battaglia. Toccante il momento della consegna delle targhe alla memoria Natale Bruno, Angelo Meli e Giusto Lobue prematuramente scomparsi. Ecco sì colleghi che fino all'ultimo giorno della loro vita si sono spesi per il lavoro che hanno lavorato fino all'ultimo istante sono stati veramente un esempio lampante di quanto questa professione coincida con la vita di tutti noi. Sul podio del concorso Lorena Dolce al terzo posto e poi Giacomo di Girolamo al secondo e Alice Martinelli in cima. Il premio speciale alla carriera Daniele Billitteri, premio Mauro De Mauro e a Giada Loporto oggi a Bruxelles quindi assente per motivi professionali. E ci colleghiamo adesso in diretta con Taormina dove si trova il collega Mario Grasso per seguire la presentazione della settantesima edizione della Taormina Film Festival che inizierà il 12 luglio prossimo. Mario a te la linea. Palazzo Corvaia Taormina nel cuore di Taormina per la presentazione del settantesimo Taormina Film Festival. Il primo, targato Marco Müller, il direttore artistico che non ha bisogno di presentazioni e che è qui vicino a noi. Lei lo ringraziamo per la partecipazione al nostro TG che Taormina Film Festival partirà il 12 luglio qui dal Teatro Antico. E partirà con il ritorno dei nazi d'argento che era un elemento fondamentale per ripensare e in qualche modo rilanciare il festival perché i nazi d'argento sono legati alla storia del festival perché davano un'abitudine sanissima. Facevano arrivare buona parte del cinema italiano importante a Taormina che poi rimaneva e soprattutto convocavano tutta la stampa italiana che poi rimaneva a seguire il festival. Si parte con una serata di fatto dedicata alla grande commedia italiana, poi grandi nomi internazionali e a tanto altro. Parleremo infatti in questo Taormina Film Festival di Sicilia ma anche di Sud le produzioni cinematografiche che partono dalla nostra isola e che fanno strada. Soprattutto ci interessa interrogare quella che è l'identità siciliana contemporanea secondo noi diventa sempre più un'identità mediterranea. Dovevamo fare i conti con questo, dovevamo fare i conti sul fatto che noi siamo non soltanto l'isola al centro del Mediterraneo ma siamo altamente contaminati da esperienze che vengono da altri paesi e quindi se da una parte non potevamo scappare di fronte al confronto con le crisi internazionali quindi i film di Amos Guitai, il film collettivo che è stato messo insieme da Rashid Masarawi ma la cosa più importante è che grattando poi la Sicilia viene spesso fuori. Per esempio il padre della Nouvelle Vague, Jacques Rivette, nel film che finalmente presentiamo in prima internazionale a vent'anni dalla morte del regista è Va Savoir Plus, cioè la versione diversa, la versione integrale di un film che contiene al suo interno tutto come tu mi vuoi di Pirandello interpretato in maniera straordinaria da Sergio Castellitto che non aveva mai visto questa versione che la verrà a scoprire e commenterà proprio a Taormina. Dicevamo grandi nomi, ci sarà la prima dell'ultimo film di Bella Torma, avremo anche Nicolas Cage e una serata speciale con Sharon Stone. Noi abbiamo, diciamo che queste sono le prime sorprese che ci sentiamo di annunciare ci sarà ovviamente come è logico in ogni feste il corollario di Vistico che permette a gruppi diversissimi di spettatori di essere attratti dalla nostra proposta però appunto proprio per questo la prima sera avremo Bella Torma e Rebecca de Mornay a metà festival ci sarà Nicolas Cage, a fine festival ci sarà Sharon Stone e tutto questo ci regala in qualche modo una punteggiatura di Vistica della quale non potremmo fare a meno se vogliamo che invece di andare al mare molti gruppi di spettatori giovani vengano anche a vedere durante il giorno i film del Palazzo del Congresso. 70 anni, la storia non si inventa, si riparte da lei, è una bella storia che continua. Ma si trattava soprattutto per noi di guardarci indietro per riuscire a guardare all'oggi e guardare al futuro e quindi noi l'abbiamo costruita, tra l'altro ricordando nella piccolissima parte retrospettiva che abbiamo dedicato ai 70 anni del festival il film che ha fatto la differenza per il rapporto fra il Taromina Film Festival e il mondo anglo-americano che era un film non americano e non britannico ma era un film australiano, Picnic at Hanging Rock il film che ha davvero stimolato i produttori quando ha vinto il Carri di Doro nel 1976 ha stimolato i produttori di tutti i paesi di lingua inglese a considerare Taromina un'ideale piattaforma di lancio per il loro film un luogo d'incontro con tutta la stampa europea. Ringraziamo Marco Müller, direttore artistico di Taromina Film Festival 12-19 luglio Taromina ovviamente, il servizio è nuovamente alla linea allo studio Il Taromina Film Festival 2024 parte sotto il segno dei numeri 70 come settantesima edizione 1 come primo festival targato Marco Müller nuovo direttore artistico della Kermess cinematografica che celebra pellicole, attori, registi, tutto quello che è cinema mondiale dal 12 al 19 luglio al Teatro Antico di Taromina via dunque venerdì 12 con un evento speciale dei nastri d'argento per celebrare il settantesimo anniversario con omaggio alla commedia italiana grandi protagonisti Christian De Sica, Carlo Verdone, molti altri ancora poi il cuore del Taromina Film Festival, il galà che ospiterà sette titoli a partire dal giorno 13 tutte le sere al Teatro Antico fra cui ben quattro prime mondiali e un'attenzione particolare al giovane cinema che opera con prime e seconde produzioni si parte il 13 dicevamo con l'horror statunitense Stan Clare con Bella Thorne quindi il thriller psicologico The Surfer con Nicolas Cage poi ancora il giudice e il boss che è il regista di Placido Rizzotto Pasquale Scimeca dedica alla memoria di un eroe dell'antimafia come Cesare Terranova tanti gli ospiti che arricchiranno questa settantesima edizione del festival abbiamo già detto Nicolas Cage Bella Thorne ma pure Shadow Stone che a Tormina riceverà un riconoscimento speciale quindi Officina Sicilia in cui coesistono anime diverse tra loro innanzitutto lo spettacolo della serialità più recente Made in Sicily come ad esempio L'arte della gioia di Valeria Golino oppure ancora Vanina un vicequestore a Catania prodotta da Davide Marengo con Giusy Buscemi quindi infine ma non per ultimo Focus Mediterraneo che permette al festival di aprirsi al mondo e inserirsi nelle sue contraddizioni più scottanti a partire dalla prima internazionale del film From Ground Zero il film collettivo coordinato da Rashidi Majarabi che presenta il racconto di storie non raccontate firmate da 22 giovani cineasti palestinesi che hanno filmato la vita quotidiana a Gaza E con le splendide immagini di Tormina si conclude questa prima edizione di OraTG ma vi ricordiamo che il secondo appuntamento con l'informazione di Rete TV torna questa sera alle 19.45 Grazie per averci seguito Un buon proseguimento di pomeriggio a tutti voi Grazie per averci seguito